Leonardo racconta Leonardo Milano vita natura il progetto pensato per raccontare Leonardo da Vinci nei luoghi dove ho vissuto e lavorato a lungo tre temi principali la vita gli anni milanesi e le prodigiose invenzioni tre diverse installazioni tre schermi interattivi per darvi piena e vera notizia di quanto ho scoperto e a ciò che tal beneficio che io do agli uomini non vada perduto io insegno il modo di ristamparlo con ordine vieni alla fondazione stellina